Il Duce, presenti i membri del Godanno e del Corpo Diplomatico, passa in rivista le rappresentanze di tutte le forze armate repubblicane e consegna la bandiera di combattimento ad una legione della Guardia. La bandiera della Repubblica Sociale Italiana è il simbolo della nostra nazione assoluta e la rispettua della Patria. È il segno della nostra fedeltà nemmeno assoluta verso il nostro intrepido alleato. È la certezza del nostro vittorioso futuro. La bandiera è l'anima delle nostre anime, ricevendola del prestato e sereno giuramento che mai, dico mai, sarà ammazzata dal disonore e dalla verità, sempre in pace e in guerra per la difesa e consacrata col sangue. La consegna dei treni in denaro a familiari di legionari troppi. La musica continua La musica continua Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.